Ciao ragazzi, io sono Michele, benvenuti su Sport al Centro. Oggi parliamo di pompe per stand-up paddle, alida wing, kite, kayak. Vedremo quali sono le pompe manuali, quali sono le pompe elettriche, quali sono le differenze e come scegliere la pompa più adatta a te. Nel frattempo, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, per piacere mettete like e iscrivetevi. Per voi è solo un click, ma per noi cambia tantissimo. Oggi parliamo di pompe, noi abbiamo già parlato di questo argomento sul nostro canale. Infatti trovate alcuni consigli per la corretta manutenzione e in questo video qui trovate la recensione di una delle migliori pompe elettriche secondo me presenti sul mercato, la Airbank Puffer Pro. Penso che sia chiaro a tutti che cosa sia una pompa. Quindi è un accessorio che può essere manuale, può essere elettrico, che ci permette di inserire aria all'interno dei nostri gonfiabili, che siano stand-up paddle, wing, kite. Chiaramente ogni tipo di gonfiabile ha delle caratteristiche differenti, magari un ala da wing si gonfia fra i 7 e i 9 PSI, mentre una tavola da stand-up paddle o da wing foil gonfiabili magari si gonfia tra i 15 e 18 PSI. Però il principio di funzionamento è sempre lo stesso. Tramite pompa manuale o pompa elettrica buttiamo aria dentro il gonfiabile, più aria andiamo ad immettere e soprattutto maggiore la pressione con cui facciamo questa operazione, maggiore sarà la rigidità del mio gonfiabile. Quindi molto importante e devo dire anche molto sottovalutato da quasi tutti, avere una buona pompa all'interno della nostra dotazione di accessori. Abbiamo anche notato che c'è veramente tanta confusione su questo tema. In tantissimi si scrivete chiedendo consigli sulla migliore pompa da usare oppure sulla tipologia di pompa presente in quel kit stand-up paddle o in quel kit wing foil. Quindi vediamo adesso la macro differenza. Allora, abbiamo delle pompe manuali come questa, questa e questa, oppure delle pompe elettriche come queste due. La differenza principale è che con la pompa manuale, come dice la parola, voi dovete pompare per rimettere aria nel gonfiabile, con la pompa elettrica al lavoro lo fa tutto la pompa. Allora, partendo dalle pompe manuali esistono principalmente tre tipi di pompe manuali che si differenziano dal tipo di azione, si dice in gergo. In verità diciamo dalla modalità di funzionamento. Esistono pompe manuali a singola azione, doppia azione e tripla azione. Vediamole assieme. Allora, un esempio di pompa a singola azione è questa qui, che come vedete a livello visivo non è che si differenzia tanto da una doppia azione, che è questa qui nera, oppure da una tripla azione, che è questa qui. Allora, con la pompa a singola azione, voi andate ad immettere aria all'interno della tavola solamente durante il movimento di discesa. Con la pompa a doppia azione, invece come questa qui, voi avete appunto due modalità di funzionamento. La prima modalità è quella ad alto volume e bassa pressione. Questo che cosa significa? che tramite, in questo caso, un manettino, potete scegliere la modalità di oswizzo in doppia azione e il risultato è che viene immessa aria sia durante la fase di salita che durante la fase di discesa. Forse riuscite anche a sentirla. Sentite. Cosa faccio in questo modo? Immetto tanta aria ad una pressione non elevata. Che cosa significa? Significa che dopo un pochettino che io starò gonfiando, la pressione all'interno del gonfiabile chiaramente aumenterà e io inizierò a far fatica. A quel punto diventa abbastanza difficile spingere anche nella fase di salita. E allora, quello è il momento in cui bisogna commutare la pompa in modalità a singola azione. Ed ecco qui. E in questo caso qui la pompa immetterà aria solamente durante la fase di discesa. Quindi io potrò spingere con tutto il mio peso sulla pompa per immettere aria agilmente. Ma durante la fase di salita non avrò dello sforzo da fare perché la pompa di fatto mi aiuterà. Quindi vedete, così in singola azione non sto buttando dentro aria. Mentre quando vado giù butto dentro aria. La pompa a triplazione invece, come questa qui, vedete che anche costruttivamente è un pochettino diversa. Perché qui noi abbiamo due cilindri, non uno come in queste pompe qui. E qui frontalmente abbiamo un manettino con cui vado a scegliere la modalità di lavoro. Allora si parte sempre con la modalità che qui lui chiama alto volume. Quindi sposto il manettino in questa direzione qui. Sono in alto volume. E cosa succede? L'aria viene immessa sia durante la fase di salita che durante la fase di discesa. Ed entrambi i cilindri stanno lavorando. Quindi a tutti gli effetti ho, se vogliamo, tanto volume e poca pressione. Dopodiché quando inizia a fare un pochettino fatica commuto sulla modalità intermedia. Che qui viene chiamata media pressione. Come funziona questa modalità? L'aria viene immessa. Prelevandola da entrambe le camere. Ma solamente durante la fase di discesa. Quindi io faccio un po' di fatica quando spingo in giù. Ma poi risalgo molto facilmente. Infine quando il gioco si fa dura e si inizia a fare fatica anche con questa modalità. Si commuta la terza modalità chiamata pressione elevata. E in questo caso non avrò più due cilindri che lavorano. Ma ne avrò solamente uno che lavora in modalità singolazione. Quindi salgo facendo, non facendo fatica. E poi quando vado giù immetto dell'aria. In tutti questi casi, sopra la pompa è presente un manometro. Che lo vedete qui, tendenzialmente è una lancettina. Che di fatto vi legge la pressione attuale dello stand up paddle. È normale che all'inizio della fase di gonfiaggio la pressione risulti zero. Perché questi manometri iniziano a leggere da un certo numero di PSI in su. Quando scegliere una pompa singolazione, doppiazione o tripliazione? Allora le singolazioni praticamente non si trovano più neanche nei kit economici. Dovunque si trova sempre quella a doppiazione. Con quella a doppiazione uno stand up paddle anche molto grande. Gonfiato a 15 PSI si gonfia tranquillamente in meno di 10 minuti. Ma io ho notato dei veramente grandissimi benefici usando una pompa a tripliazione. Con questa pompa qui è un gioco. Gonfiare uno stand up paddle anche a 18 PSI ci vuole meno tempo e si fa meno fatica. Chiaramente rimanendo nell'ambito delle pompe manuali. Se invece andiamo a parlare delle pompe elettriche, esistono principalmente pompe di due tipi. Le pompe elettriche che io chiamo a filo, come questa qui. In cui come vedete qui è presente un filo. che tipicamente si attacca alla presa della stand isigari della macchina. E poi abbiamo delle altre pompe che sono sempre pompe elettriche ma a batteria come questa Airbank Puffer Pro che abbiamo recensito qui. La differenza principale è che quelle a filo devono essere sempre attaccate all'alimentazione per funzionare. Quelle a batteria invece lavorano anche in maniera autonoma. Voi le caricate con una presa USB oppure attaccata alla corrente oppure anche all'accento di sigari della macchina. Una volta caricate queste qui permettono di gonfiare N tavole, dipende dalla capacità della batteria e dal modello, alle varie pressioni che vi possono servire. Se nelle pompe manuali voi dovete stare attenti se vogliamo controllare la pressione attuale per decidere quando smettere di gonfiare la tavola, con le pompe elettriche invece voi avete un menu con delle indicazioni, impostate la pressione voluta, premete il pulsante centrale e questa pompa poi vi gonfia, questa come questa, sono tutte praticamente uguali, vi gonfia la tavola alla pressione voluta. Quando raggiunge quella pressione la pompa si stacca e voi potete chiaramente andare direttamente in acqua. Cosa che ho dimenticato di dire che però è molto comoda in alcuni casi, sia le pompe manuali che quelle elettriche, o almeno molte delle pompe attuali presenti sul mercato, sono in grado anche di sgonfiare. Nel caso di pompe manuali, ad esempio vedete che io qui ho due ingressi per i tubi, se l'attacco dal tubo da una parte mi servirà per gonfiare, se l'attacco dall'altra mi servirà per sgonfiare e discorso analogo vale anche per le pompe elettriche. Come vedete qui ho due attacchi, con uno gonfio, con quell'altro sgonfio. Questo può essere molto comodo, soprattutto se avete magari tempi stretti oppure se non volete diventare mattine a sgonfiare un gonfiabile. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia anche chiarito qualche dubbio. Se avete qualsiasi domanda per piacere scrivete qui sotto nei commenti, cerchiamo di essere veloci nelle risposte. Noi adesso andiamo a fare altri contenuti e ci vediamo presto. Ciao, da Michela.